O se ne andrà via da qui, o sarà peggio per me. C'è un'affarista che ha intenzione di abbattere tutti gli edifici della zona. Questo è l'ultimo avvertimento, chiaro? Ho solo paura che possano fargli qualcosa se non c'è te. Temo che dovrò farle male ora. Eric non era violento, ma per amore era pronto. Sono stati loro a rapire Stefani. Gettate la luce. In modo che sembri un incidente. Pronto a colpire. In prima visione TV, domani sera alle 20.30 su Italia 1. Mediaset, la vostra televisione.